E questa è la sua scuola che appunto è composta da diversi elementi che arrivano sia dalla Sicilia, da Catania, sia dal Veneto, a Treviso, sia da Lombardia. Maestro Pace ha scuole anche a Santo Domingo e a New York. Allora, quello che state vedendo è la prima forma della vecchia versione dello stile CERN. Allora, lo stile CERN è composto da due versioni, prima e seconda forma vecchia versione e prima e seconda forma nuova versione. La OJAR, questa, TINU, e poi vedrete successivamente la LAJAR TINU, la seconda forma. La OJAR, questa, TINU, la seconda forma. la OJAR, questa, TINU, la seconda forma. La OJAR, questa, TINU, la seconda forma. Grazie a tutti Grazie a tutti Allora adesso padelino Rispetto alla prima come potrete vedere la seconda forma ha dei momenti più esplosivi rispetto alla prima Rispetto ad altri stili o stile cenna ha molte più spiralizzazioni Il corpo deve essere mosso in modo continuo e armonico ma soprattutto ben coordinato Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti